Domenica 13 dicembre, Martina Ambrosi a Biceglie, una partita particolare per coach Alessandro Fantozzi, ex di turno? Sì, indubbiamente è una partita particolare perché troverò tanti amici che ho lasciato a Martina, tante persone con cui ho avuto uno splendido rapporto e per questa domenica saremo avversari. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare, la cura Fantozzi sembra funzionare, adesso però viene il bello e magari anche il più difficile, visto che in questo mese di dicembre restano ancora tre gare contro formazioni puliesi. E' questa la mentalità giusta della squadra? E' chiaro che siamo all'inizio di un percorso, devo ringraziare i giocatori, lo staff tecnico, la società che mi ha supportato in questo periodo e diciamo che quindi i risultati sono visti, è merito di tutti, chiaramente se le cose stanno andando meglio. Però siamo all'inizio di un percorso, ancora è presto per trarre le conclusioni così vittoriose, nel senso che è vero che stiamo vincendo ma poi alla fine il traguardo è ancora lontano. Noi vogliamo migliorare perché vogliamo arrivare a questo traguardo nel migliore delle maniere. L'arrivo di Matteo Cercolani ha dato magari maggiore equilibrio alla squadra sotto il profilo dell'assetto tattico? Sai, io ho una visione chiaramente della squadra, dopo che l'ho vista ho cercato di dare quella che è la mia impronta, secondo me in questa squadra era importante avere un regista per riportare Mauro Torresi nel suo ruolo naturale di guardia e avere delle rotazioni diverse perché prima erano un po' problematiche anche le rotazioni, adesso c'è più equilibrio. Fra reparto esterni e reparto interni e c'è una possibilità di una rotazione secondo me più facile sia per quanto riguarda la gestione dei giocatori ma anche per i giocatori stessi in campo, avere le idee più chiare su quelli che sono i propri ruoli. In un campionato imprevedibile mai avversario può essere ritenuto più imprevedibile di Martina che è stata anche capace di superare Falconara fra le monamiche? Ma io ho sempre detto e lo dico sempre, nelle partite secche sui 40 minuti non esiste l'essere più forte o più deboli, avere vinto 5 partite invece di una, contano i 40 minuti. L'esempio più classico è quello che è successo a Falconara sia alla partita di Martina ma voglio pensare anche alla partita in casa con Senigallia, già da che stiamo parlando di Falconara. Nei 40 minuti può succedere di tutto, può succedere di tutto perché se non affronti la partita nella maniera migliore, magari giochi sotto tono e magari i tuoi avversari che sulla carta sono più deboli però trovano una partita super, allora perdi. Quindi per questo è importante ogni domenica scendere in campo come se fosse una finale, non guardare mai chi è davanti ma solo pensare a dare il meglio, il 100% della propria potenzialità, poi alla fine guardi il risultato e cerchi di capire se sei stato il migliore o se la squadra che ti ha battuto ha giocato meglio di te. Matteo Cercolani, ultimo arrivo in Casa Ambrosia, qual è stato l'impatto con i compagni e col modo di lavorare del coach? Dal primo minuto mi sono sentito subito a casa, un bellissimo gruppo e mi sono sentito subito parte della squadra. Per quanto riguarda il lavoro con il coach, sicuramente essendo un playmaker ho tanto da imparare, lavoriamo tanto sul pick and roll e quindi mi dà comunque molti consigli e quindi ho il modo sicuramente di crescere tanto. Qual è l'apporto che pensi di poter dare alla squadra? Fin dal primo minuto che sono arrivato qua il coach mi ha detto che tutto quanto partiva dalla difesa e in più sicuramente per la mia posizione cercherò di innescare i tiratori e di mettere i miei compagni nel miglior modo possibile per dare punti a questa squadra. Grazie. 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 Grazie.